Sono già 48 ore che sta nevicando di continuo, un po' più, un po' meno, più più che più o meno. Guardate qua! Ci sono due fringuellini di montagna che vengono la mattina presto, gli butto il pane ma il apparisce, affonda dietro la neve, non lo butto neanche stamani, eccole lì, i settini, li ho messo anche in cestina attaccata all'albero, come si vede, per accettare dentro la neve. Ora scendo e gli faccio una piazzolina, un po' pulita dalla neve, ci metto un po' di pane dentro. Quest'anno dall'Aleandro hanno fatto un albero di Natale, molto probabilmente perché c'è la Giuliana che non sta bene. una macchina di Marcello è due giorni che è ferma. Allora alla